capitolo quarto le lezioni di ida un mese prima mauro passeggia nervoso sul ballatoio il copione è quasi illegibile tanto è stato sgualcito dalle sue mani sudate si ferma mette a fuoco le parole riparte parlando e gesticolando gli è toccata la parte del protagonista un lavoratore impiegato presso mcdonald's un crew posso soltanto immaginare il suo disagio la difficoltà di presentarsi agli occhi degli occupanti come un attore di una compagnia teatrale improvvisata lui è il leader ci tiene alla performance pubblica di guida politica e raramente ho visto esporre il suo lato umano penso lo consideri un segno di debolezza nonostante ci rivolga sorrisi di dissimulazione il suo nervosismo ha rotto gli argini lo osservo prima divertito poi inizio ad avvertire il contagio al primo piano devo entrare in scena io faccio il coatto sono l'uomo dei luoghi comuni dell'importante che se magna veloce addusordi con tanto di capezza di fintoro al collo ti viene naturale aveva detto roberta sbrigativa mentre distribuiva i compiti sono agitato ma fortunatamente mi toccano poche battute recitate in un dialetto romano forzato luca suo malgrado fa il padroncino ricopre il ruolo di swing sulla scena è un'attacca sopra mauro e questo provoca tra i due una competizione feroce in sostanza il protagonista è inizialmente entusiasta di aver trovato un'occupazione prende poi lentamente e dolorosamente coscienza degli effetti della globalizzazione sulla cultura alimentare sugli stili di vita e soprattutto sul lavoro sempre più precario crew e swing capiranno solo in seguito la relazione tra i loro destini l'essere parte di un impianto di produzione e consumo mortiferi per l'umanità e il pianeta così dice il copione stringeranno un patto un'alleanza per resistere ai turni massacranti e ritrovare una relazione più umana e addirittura di fraternità ogni occupante ha un ruolo da attore le scene sono distribuite sui diversi piani della scuola occupata tre anni fa nel quartiere di tormarancia c'è chi fa la comparsa chi il semplice acquirente di hamburger e chi invece si occupa delle luci e degli stacchi musicali l'atmosfera è allegra tra il pubblico i bambini faticano ad accettare la disciplina del silenzio non resistono vedendo i propri genitori in abiti inusuali gironzolare tra gli spazi prima di buttarsi dietro le quinte e iniziare lo spettacolo sotto la rigida regia di roberta una delle prime militanti del nostro movimento per il diritto alla casa l'intero immobile si trasforma in un teatro ci stiamo preparando alla tre giorni di genova coinvolgiamo le famiglie e i giovani che vivono nell'occupazione per parlare di globalizzazione attraverso la drammatizzazione della vita dentro un fast food della multinazionale l'idea di roberta presentate in assemblea un mese prima era subito piaciuta un modo originale non frontale di far passare il senso della lotta il controvertice si preparava anche con la cultura diceva roberta e mcdonald's era diventata il simbolo negativo della globalizzazione la rappresentazione teatrale si esaurisce al piano terra con una grande festa di comunità internazionale le provenienze degli occupanti si rappresentano attraverso il cibo e la convivialità senza confini la folta comunità peruviana delle nostre occupazioni si presenta con le famiglie eritre di tormarancia hanno preparato lo zigini mentre quelle curde la dolma verdure ripiene di riso con carne di agnello ida capeggia il fronte culinario italiano insieme ad altre famiglie ha cucinato la caponata e gli involtini di carne tutto biologico se no chi la sempre roberta festeggiamo fino a tardi con la banda musicale nata nell'ambito della nostra comunità inizia a fare buio ci ritroviamo nell'ampio cortile della scuola e dal prefabbricato fatiscente che abbiamo recuperato all'abbandono arrivano le voci delle famiglie che si preparano alla notte si sentono i televisori qualcuno continua a festeggiare nelle proprie stanze con fisarmoniche chitarre e gli immancabili bonghi con luca roberta mauro paola e altri ragazzi che vivono nelle occupazioni ci ritroviamo a commentare soddisfatti ed esausti il successo della manifestazione culturale ci gongoliamo scambiandoci battute sugli errori scenici frasi intere dimenticate improvvisate le conseguenze tecniche della fretta di mettere in scena lo spettacolo soprattutto roberta non sta più nella pelle è soddisfatta e non smette di sottolineare l'importanza di quello che è appena successo vi rendete conto sta succedendo veramente sono anni che ci sbattiamo per far partecipare le famiglie alle manifestazioni e ora sembra tutto così facile roberta ha un ruolo importante nella nostra comunità è la figura dell'organizzazione concreta dei picchetti antisfratto e delle liste da stilare per organizzare nuove occupazioni di stabili abbandonati l'unica a poter riuscire nell'impresa appena realizzata manca un mese al controvertice e i preparativi assumono decine di forme diverse tra loro assemblee nelle scuole e nei centri sociali in molti luoghi di lavoro i sindacati soprattutto quelli di base portano il loro contributo mettendo l'accento sulle leggi che indeboliscono il potere contrattuale dei lavoratori dal mondo della sinistra più radicale a parti della chiesa fino alla società civile ognuno interpreta il ruolo da assumere dentro quella che sta diventando una mobilitazione internazionale e trasversale è ormai mezzanotte passata quando alcune famiglie escono alla spicciolata dallo stabile per far ritorno alle proprie case ida è con loro il figlio piccolo in braccio e l'altro a fianco esce per dirigersi verso la macchina non fa tardi che domattina se non te svegli manco con le bombe mi fa ironica il faro che dal tetto dell'occupazione spara verso il cancello esterno la irraggia i tatuaggi che le coprono disseminati gli avambracci fino al polso si manifestano inquietanti figure umane e animali stilizzati simili a graffiti preistorici si alternano sulla pelle tesa dallo sforzo alcuni disegni sono malamente coperti da altri tratti con fattezze più delicate e artisticamente più evolute una tigre che richiama il simbolo della resistenza di monpracen le riempie l'avambraccio esterno destro una donna armata di un mitrasten presumibilmente una partigiana con un vasco nero e la stella rossa al centro quello sinistro su di lei due tre vite si davano il cambio una che provava a prevaricare sull'altra ad affermarsi su quella precedente mentre si allontana arrivata quasi al cancello ci dà la buonanotte e non riesce a rinunciare a quello che abbiamo cominciato a definire ironicamente la lezione di vita di ida che suona come un vaticinio oggi è stato bello siete stati bravi ce voleva proprio ma ricordatevi che neanche troppo tempo fa hanno fatto il massacro a napoli me posso sbagliar ma lì ci hanno spiegato come funziona genova sipario genova 20 luglio ida la strega la veggente la visionaria pazza la provocatrice annunciatrice di sventura ida e i suoi cani scomparsi per dare corpo a chissà quali rituali la sua figura si era circondata di mistero nella nostra comunità aveva vissuto in macchina per anni insieme ai suoi figli rifiutando la assistenza alloggiativa del comune poi si era presentata ai nostri sportelli quelli dei quali componevamo le liste di chi aveva diritto a una casa e il coraggio di andarsela a prendere era disposta a occupare una casa ma non a farsi mettere in un centro insieme ad altre persone assistite una separazione alle spalle e forse il carcere non amava parlare di sé o almeno preferiva farlo a modo suo sentenziando come una fattucchiera aveva ragione a napoli ci avevano spiegato come sarebbe andata a genova ora siamo immersi fino al collo nella sua visione paola perde sangue dallo zigomo gonfio e livido ha bisogno di punti di sutura dice di vedere appannato con l'occhio destro è rimasta lucida fino a quando il nostro salvatore ci ha condotto al riparo nello scantinato sergio si chiama da quando ci ha raccolto al cancello si è espresso soltanto a gesti per indicare la strada dopo aver aperto la cantina ha fatto a voce bassa come se i muri avessero orecchie o le spie nemiche fossero in agguato rimanete qui ora vi portiamo da bere poi è sparito paola ora sembra smarrita confusa chiede del suo zaino sembra ci sia qualcosa di prezioso là dentro lo teneva stretto a sé ha bisogno di un medico urgentemente la cantina che ci fa da riparo impedisce al telefono cellulare di mauro di ricevere informazioni dal campo base del carlini dove stanno tornando una parte dei dispersi dalle cariche l'ultima notizia che ha ricevuto prima di perdere il segnale riguarda luca e altri ragazzi feriti ora si aggira per lo spazio semibuio con il telefono in mano e il braccio teso a cercare la tacchetta che ci rimetta in contatto col mondo molti di quelli che sono stati portati in ospedale sono spariti nel nulla qui sotto si respira meglio la temperatura si è abbassata per via dei muri spessi ci sediamo ognuno dove può le cassette di plastica fanno da sedie io mi appoggio schiena al muro sguardo verso la porta è la paura a tenermi vigile mi aspetto il peggio mi guardo intorno gli occhi prendono confidenza con l'ambiente che lentamente si rischiare la mia curiosità è selettiva si concentra sugli oggetti che possono esserci utili qualora la polizia dovesse fare irruzione la prigione è l'esito meno nefasto mi ritrovo a pensare è la storia di questa giornata delle notizie arrivate a mauro del trattamento che ci hanno riservato pochi istanti fa è saltato tutto bisogna soltanto capire fin dove vogliono arrivare nelle esperienze passate anche le più dure c'è sempre stato un momento in cui la furia della violenza si deposita la soddisfazione dell'ordine ristabilito la misura degli arresti la piazza riconquistata prima o poi la politica o la tecnica decidono che bisogna mettere un punto all'applicazione della violenza ma qui non c'è più argine alla prevaricazione siamo stremati e la scomparsa di luca ci fa precipitare nell'angoscia non ce lo diciamo subito ma nelle nostre fantasie si affacciano le memorie e le immagini peggiori del passato sta accadendo qualcosa di straordinario la polizia i carabinieri non si fermano davanti a nulla rumori di ferraglia il montante della porta fa resistenza qualcuno da fuori sta forzando per entrare paola si ripara dietro una libreria con gli scaffali pieni di scatole di cartone il fidanzato impugna un rastrello poggiato al muro a pochi passi da lui sto per dirigermi verso l'entrata e mi guardo intorno per capire se ci sono mobili da usare per bloccarla due manate vigorose e la porta si apre la luce entra insieme alle sagome di due signori anziani un uomo e una donna dietro di loro una ragazza poco più di un adolescente tiriamo un sospiro di sollievo riconosco l'uomo è sergio prendo il bassoio che ha tra le mani lo deposito a terra e lo abbraccio con vigore e tutto bene qui dentro fa la signora con voce sommessa non può saperlo ma quella domanda ordinaria ci riconsegna una normalità che non pensavamo più possibile li assediamo con le domande siamo affamati ma nessuno tocca neanche un tozzo di pane ci scambiamo le bottiglie d'acqua bagnandoci il viso i capelli i polsi il liquido a contatto con i vestiti ravviva l'odore acre dei lacrimogeni e brucia sulla pelle vogliamo sapere cosa sta avvenendo in città e soprattutto chiediamo del ragazzo ucciso sergio ci dice che al telegiornale hanno parlato di un ragazzo di vent'anni forse spagnolo colpito da un proiettile in fronte e di un'altra manifestante ferita gravemente anche un carabiniere sarebbe grave descrive filmati in cui manifestanti vestiti di nero sfasciano vetrine assaltano banche anche il carcere di marassi è diventato bersaglio della loro azione i black bloc diventano protagonisti della costruzione mediatica del caos racconta ancora di quello che hanno visto dalle finestre dei pestaggi di ragazzi disarmati marzia la ragazza riporta le notizie raccolte da radio gap il corteo che abbiamo lasciato è tornato allo stadio carlini caricato durante tutta la ritirata e in città altri gruppi di manifestanti continuano a scontrarsi con le forze dell'ordine dice che dalla radio arrivano notizie allarmanti sui fermati e sulle violenze che stanno subendo anche il blocco più pacifico quello in cui c'era la rete lilliput e altri movimenti non violenti era stato selvaggiamente attaccato dalle forze dell'ordine intanto mi avvicino a paola il fidanzato e francesca provano a farla bere troveremo il modo di tornare allo stadio le dico ancora una volta sento che le parole mi escono incerte mi osserva con uno sguardo che non le avevo mai visto sono gli occhi di una persona arresa lì dentro la luce che debolmente arriva dalla porta sembra essere risucchiata e mortificata dalla tristezza mi chiede della sua ferita provo a distrarla dicendo che chi ci ospita troverà il modo di portarci in salvo sergio interviene alcune famiglie del palazzo sanno della nostra presenza e il suo vicino di pianerottolo è infermiere sicuramente non si tirerà indietro date le notizie ricevute da mauro portarle in ospedale può essere pericoloso le cure necessarie devono essere portate dove ci troviamo dopo aver parlato fra di noi arriviamo alla conclusione che dobbiamo separarci provare a superare insieme lo schieramento delle forze dell'ordine per tornare al carlini è l'idea peggiore e il progetto di raggiungere la zona rossa deve essere abbandonato conveniamo soltanto paola non è d'accordo si accende alle nostre parole di resa torna a dire che siamo venuti a genova per raggiungere il vertice del g8 ma è soltanto un lamento marzia propone di accompagnarci al carlini usando il suo motorino dice che le forze dell'ordine lasciano passare i residenti anche se i controlli sono molto accurati e capillari mauro propone che sia io ad andare per raggiungere gli altri allo stadio uscendo ti fai un'idea del clima in città e se è opportuno muoverci da qui camionette di carabinieri e polizia sfrecciano a sirene spiegate sulle strade deserte non sembrano far caso a una sedicenne e un ragazzo in abiti eleganti a cavallo di una vespa vecchio tipo i vestiti erano stati una concessione di tiziana la moglie di sergio quelli vestiti bene neanche li fermano aveva detto in un dialetto appena comprensibile marzia guida con prudenza nella città deserta disseminata dei segni della battaglia che sembra essersi ritirata mentre il buio inizia ad avvolgere genova i lampioni si accendono all'unisono sulle nostre teste superiamo la sede di una banca incendiata i pompieri sono ancora alle prese con gli ultimi focolai fra cinque minuti dovremmo essere arrivati dice accelerando in lontananza ancora il boato di una bomba carta gli elicotteri vigilano a bassa quota alimentando ancora di più la sensazione dell'assedio in fondo alla via si intravede lo stadio ammucchiati intorno palazzoni tutti uguali e all'orizzonte montagne coperte di un verde intenso tra pochi istanti superato lo schieramento di polizia che ci separa dalla meta potrò riabbracciare i miei compagni e dare informazioni utili a chi è rimasto nel limbo dello scantinato avverto una sensazione che provo a respingere la vergogna di interrogarmi su chi tra me e loro sia stato più fortunato